Era il 2006 quando Vialo Video venne chiusa dalla loro giunta guidata da Biagio Tempesta. Oggi, a distanza di 20 anni, un'altra giunta, quella di centrodestra guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, ha riconsegnato i lavori per la sua riapertura. 500.000 euro circa, fondi a valere sul PNRR ed 11 mesi di lavori sono serviti affinché l'arteria di collegamento tra Viale della Croce Rossa e la Fontana Luminosa tornasse ad essere una realtà. Inizialmente l'arteria sarà aperta in senso unico a salire, proprio da Viale della Croce Rossa, permettendo così di recuperare circa 38 posti auto. Nel progetto era previsto il doppio senso di marcia, ma è una previsione che poi abbiamo deciso di non portare avanti perché così riusciamo ad avere qualche parcheggio in più. Quindi sarà in salita, è una soluzione che noi adotteremo per qualche mese, vediamo come va, calcoleremo i flussi di traffico, vedremo anche la reazione dell'utenza e qualora fosse necessario potremmo anche decidere di invertire il senso di marcia che sarà comunque sempre unico. Sono 38 posti auto in totale con due per i disabili, in aggiunta a quello già esistente. A distanza di quasi 20 anni dal progetto incompiuto di chiusura di Viale Ovidio con la realizzazione dei parcheggi interrati sulla Fontana Luminosa in piazza Battaglione Arpini riapriamo questa arteria che era già stata prevista, riapertura prevista nel piano urbano della mobilità sostenibile che consentirà di sgravare tutta la parte finale di Viale della Croce Rossa in prossimità fino alla rotatoria del Torrione, consentirà un accesso da chi viene alla zona ovest più agevole al centro storico della città. Recuperiamo un po' di stalli per il parcheggio e soprattutto ripristiniamo altri stalli per i diversamente abili che abbiamo dovuto momentaneamente togliere per far fronte ai tanti lavori e ai tanti cantieri che interessano il centro storico cittadino.